Daniele Tenka e basta Come vi avevo scritto, vi ho invitati a casa Sembra che sia evidente Grazie per essere venuti prima di tutto Di solito prima di queste date in teatro c'è un piccolo discorso da fare Siamo a teatro, ci bisogna avere un minimo di rispetto per il luogo Per cui anche io faccio il mio piccolo discorsino prima di iniziare Se per caso avete voglia di battere le mani, di fare casino, di cantare Visto che siamo a teatro, fatelo Ok? Quindi, cioè, feel free, ok? Siamo a casa, è il posto più bello dove poter fare musica E mi auguro che la serata sia di vostro gravimento Grazie davvero a tutti per essere venuti di cuore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti